Siamo a Bologna, esattamente alla Pressing e questa etichetta discografica ha scoperto un nuovo gruppo, si chiamano Clessidra è già uscito un singolo che indirò per le radio ma tra poco uscirà anche il loro nuovo disco però andiamo a conoscere chi sono i Clessidra Allora, prima che iniziamo, prima che trovi Clessidra, mi vedi Luciano? La Pressing che cos'è? È la casa di Lucio Dalla, casa sua, casa discografica e siamo negli uffici Mi chiamo Clessidra, che fanno parte di questa casa discografica Ma dove siete messi? Primo Clessidra Ciao, voce Volo? Voce Avanti, poi c'è Leo, Tostiere e Piano Ciao, Leo Buonasera ragazzi, Roberto, batteria Buonasera, motore, vada, dove va? E poi, buonasera a lei? Angelo chitarrista Poi è pieno giorno, diciamo buonasera Ah, ce ne sono ancora? O sto qua? Che è? Oh, è questa Infatti mi chiedevo come mai questo nome, da dove l'ho ascoltato fuori Da lei? Parliamo seriamente o scherziamo ancora? Parliamo seriamente, diciamo Lo dico io ragazzi, posso? Eh, ok E guarda, è un'amica, ci ha suggerito il nome Clessidra E noi abbiamo detto Ma carino, perché è un nome che ricorda un po' lo scandire del tempo, no? Lentamente, quindi È musicale Carino, lo teniamo Significa che questo progetto è un progetto che dovrà durare per molto tempo Lo scopro è questo Ci auguriamo di sì, eh ragazzi Lucio Dalla Canzoni Grandissimo C'è stato, qualcuno di voi ha collaborato? Tutti noi Cosa sono quelle immagini? Sono le immagini del Festival di San Marino del 1995 Dove chiaramente abbiamo vinto, per cui è tutta la nostra partenza Siamo nati dalle ceneri di un gruppo che faceva cover nei locali Suonavamo brani di Toto, Police, Level Un po' sull'onda degli anni Ottanta, Metà Ottanta E poi così, poi da lì c'è nata l'idea di Proprio di sviluppare una musica tutta nostra Magari anche influenzati da questi generi Che noi consideriamo veramente grandi E poi il progetto Clessidra ha proseguito Quali sono altri artisti che fanno parte della Presta? Altri artisti Il presidente, il presidentissimo Lucio Dalla Samuele Bersani Bracco di Graci E basta E Clessidra Il presidente ha contribuito, ha collaborato? Lui ha il grande merito di averci scoperto Di averci incoraggiato Di averci illuminato la strada, diciamo Perché anche noi sappiamo quello che scriviamo alla fine Per cui Ogni tanto per dia la bussola lui ci aiuta E poi ci segue nel momento in cui siamo in studio Mixiamo, registriamo Per cui dall'alto ci segue E' una nostra guida, ecco Cosa c'è in programma? Allora abbiamo detto che c'è in programma una tournée Dopo l'uscita del disco L'uscita del disco anche quello per primavera E poi un video prossimo del singolo Che stiamo ascoltando ora Quelle radio che è Riparto dal zero, esatto Quali radio passano in Clessidra? Beh, in questo momento a livello di network Radio Italia, Italia Vera Radio Kiss Kiss Radio Cuore Insomma Diversi network Italia Network La canzone è riparto da zero Loro sono i Clessidra Cosa dobbiamo dire amici di Match Music Seguitici Saremo presto dalle vostre parti Perché ve l'abbiamo promesso Niente Ascoltate la nostra musica Un grosso ciao Guardate il nostro grandioso disco Che sta per uscire Siamo sono i Clessidra Siamo alla Pressing Ci vediamo presto Match Music Ciao Grazie